La Polizia Municipale, unitamente alla Polizia di Stato, nella notte tra sabato e domenica, ha effettuato vari controlli a pubblici esercizi, bar e pub, per verificare le autorizzazioni allo svolgimento di serate musicali. I locali ispezionati sono tre, due sono stati sanzionati. La prima contravvenzione è di 1000 euro per violazione dell'ordinanza numero 311 del 2010 per emissione sonore elevate. La seconda di 600 euro per violazione dell'articolo 54,1 legge numero 120 del 2010, in quanto non era presente la strumentazione per il controllo alcolemico obbligatorio nei locali che effettuano somministrazione di alcol. I controlli continueranno anche nei prossimi mesi, in vista anche dei mesi primaverili ed estivi.